una fiamma al giorno energie del 16 di dicembre scegliete la vostra variante luna stella rossa stellina bianca chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 16 di dicembre per tutte le tre varianti e qua c'è una magia che sta arrivando c'è uno sblocco che che verrà operato materialmente quindi ci sarà uno sblocco concreto di una situazione proprio perché avete lavorato sulla vostra energia siete entrati nell'energia del mago colui che crea la sua realtà partendo dalla sua energia e c'è la creazione la temperanza l'equilibrio la creazione proprio armonica qua c'è qualcosa di bellissimo che sta venendo fuori non è ancora sbloccato è nel senso che si sbloccherà proprio a seguito di questa energia mi dà un'energia di manifestazione chiaramente ecco non immediata perché c'è ancora qualcosa che deve essere equilibrato però siete nel proposito nell'energia giusta state andando oltre gli schemi quindi oltre i blocchi e qua ci sarà una rivelazione quindi uno sblocco totale c'è la chiave uscire da una dinamica di come si come si può dire appunto blocco si può dire rallentamento si può dire pesante pesantezza del passato situazioni da gestire ma c'è il mago il mago doppio mago mi parla di un'energia che sbloccherà tutto vediamo un po stellina rossa ok ok allora qua mi stanno dicendo che qua c'è una grandissima energia di manifestazione di una consapevolezza quindi qua ci può essere un maschile che a contatto con quello che sente la consapevolezza che raggiunto comincerà a muoversi nella sua vita creare qualcosa di diciamo soprattutto a partire da consapevolezza ecco sono consapevolezze che si muovono e si manifestano si uniscono a quello che è il sentire dell'anima vediamo un po poi siamo ancora vicini proprio alla luna nuova in sagittario che si unisce al moto diretto di nessuno qua ovviamente le consapevolezze non si fanno attendere qua c'è proprio sblocchi totali ecco la divina matrice sta sbloccando quella che la matrice della materia porta manifestazioni d'amore perché siete centrati nella vostra luce state ascoltando il messaggio dell'anima state vi state alzando oltre gli schemi e tutto questo sbloccherà qualcosa che a cui lavorate da tanto tempo vediamo un po eh sì c'è una conclusione quindi questa consapevolezza porterà conclusione nella determinata fase della vostra vita e vi porterà proprio a cominciarne un'altra vediamo un po stella bianca ok questa si è girata ok si sono girate tutte e due allora anche qui consapevolezze arriva con qualche comunicazione eh sì sì arriva qualche comunicazione perché quello che probabilmente eh se è una situazione d'amore quella che vi aveva un po bloccati è stato armonizzato arriva un cambiamento che passa attraverso una comunicazione d'amore se non siete diciamo se avete già delle situazioni d'amore soddisfacenti ecco questo può essere anche una diciamo una comunicazione che vi farà molto piacere che corrisponde alle vostre energie può essere una proposta di lavoro che non vi aspettavate qualcosa che arriva proprio per sbloccare una situazione chiaramente questo si può leggere anche per quanto riguarda le relazioni qualcosa si sblocca perché qua mi sta dicendo attenzione non fissatevi sul tempo le cose avvengono nel momento in cui devono avvenire ma siete molto vicini vediamo se mi danno il molto o se come l'altra volta viene l'appeso vuol dire che siete vicini ma non così tanto ma siete nel passaggio vediamo un po che cosa ci dicono e va la guarda ho avuto la conferma della mia intuizione ecco siete vicini non tantissimo ma siete proprio a uno sblocco importante grazie